Ciao ragazzi, come state? Bentornati a questa nuova puntata di Catechismo, ancora così, ancora virtualmente, ma sono felice che almeno una volta a settimana riusciamo a vederci. Spero che vi piacciono queste lezioni che stiamo facendo, spero che vi piace l'argomento e soprattutto spero che riuscite a seguirlo. So che avete tanti compiti, tante cose da fare in questi giorni, pur restando in casa, ma almeno spero che anche questi brevi video riescano a farvi un po' di compagnia, approfondendo ancora di più la nostra amicizia con Gesù. E allora entriamo subito nel nostro argomento. Sono già tre lezioni di Catechismo che andiamo avanti con lo stesso argomento e spero che oramai sia chiaro di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando, in queste ultime settimane, dei comandamenti. I comandamenti li abbiamo definiti come un libretto di istruzioni che Dio ci dà e ci dona perché ognuno di noi possa ben capire come vivere con se stesso, con gli altri e con Dio. Abbiamo detto che i comandamenti più volte forse li abbiamo intesi solamente come qualcosa di negativo, non puoi fare, non puoi fare, non puoi fare, ma in realtà i comandamenti in sé portano più un come vivere, più un insegnamento dei veri valori da tenere ognuno di noi, più che un non si può o non si deve. E allora vediamo subito, ricordiamoci un attimo i comandamenti che abbiamo fatto nelle ultime settimane. Anzitutto sicuramente vi ricorderete che i comandamenti in totale sono dieci. I dieci comandamenti che abbiamo visto che Mosè ha ricevuto sul monte direttamente da Dio sono questa guida su come vivere bene. E allora ricordiamoci un attimo i comandamenti che abbiamo fatto fino adesso, ne abbiamo visti sei fino adesso. Il primo è io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. E ricordate lo abbiamo detto in un modo più semplice e più chiaro definendolo il comandamento del mettere Dio al primo posto. Metti Dio al primo posto nella tua vita, questo è il primo valore che Dio vuole insegnarci a ognuno di noi. Il secondo comandamento che abbiamo visto è non nominare il nome di Dio in vano. Abbiamo detto che come valore se Dio lo mettiamo al primo posto non lo dobbiamo mettere in nessun altro posto. Non c'è un posto per Dio se non il primo, il centro, al centro del nostro cuore. E allora primo e secondo comandamento. Poi abbiamo visto terzo e quarto comandamento, se vi ricordate. Il terzo era ricordati di santificare le feste e lo abbiamo definito un po' meglio dicendo che festa è senza Dio. Dio ci ricorda che è importante come è importante fare le cose che ci chiedono di fare, come lavorare, studiare, ma è importante anche fare festa. È importante anche rilassarsi, godere la vita, è importante anche gioire delle cose di cui abbiamo, ma sempre mettendo al centro Dio. Infatti Dio ha stabilito una festa settimanale a cui tutti vuole che partecipiamo, che è la domenica. E proprio la domenica dobbiamo ricordarci di mettere Dio al centro della nostra vita. E allora ricordati di santificare le feste, il quarto comandamento che avevamo visto è onora tuo padre e tua madre. Dio ci ricorda nel quarto comandamento che il valore fondamentale della famiglia dobbiamo tenerlo presente nella nostra vita. Papà e mamma, la vostra famiglia è il primo luogo dove si manifesta l'amore di Dio per voi e per tutti. E allora dovete essere capaci non solo di rispettare i vostri genitori, ma di amarli, che è qualcosa di importante perché nell'amore che tra di voi vi mostrate, mostrate l'amore di Dio. E poi abbiamo visto l'ultima volta il quinto e il sesto comandamento. Il quinto comandamento, ricordate, è non uccidere. Dio ci ricorda che per star bene tra di noi il valore della vita deve essere il primo, perché è la cosa più bella e più importante, è il dono di Dio per eccellenza che ci fa a tutti noi. Sesto comandamento ed ultimo è non commettere atti impuri. Dio dice che come valore importante nella tua vita devi avere il rispetto per te stesso e per il tuo corpo. Devi ricordarti e imparare sempre a rispettare il corpo perché è dono di Dio profondo. E ora vediamo oggi invece settimo e ottavo comandamento. Andiamo avanti, ci siamo quasi. Allora vediamo subito il settimo comandamento. Nel settimo comandamento Dio ci ricorda non rubare. E questo è un comandamento abbastanza facile perché pensiamo che sia abbastanza semplice, giustamente, perché ovviamente non fare agli altri ciò che non vorresti essere fatto alle cose tue, o meglio, diciamolo meglio, rispetta le cose degli altri. Non si ruba ovviamente. E Dio ce lo ricorda come principio fondamentale per il nostro star bene. Perché chi si appropria delle cose altrui per primo non sta bene con se stesso. E allora Dio ci ricorda che uno dei valori è proprio il rispetto per le cose degli altri. Mi è mai capitato ragazzi, ma sicuramente, che qualche volta magari qualcuno, spero non volendo, ma magari si è appropriato di qualcosa che era vostro. Magari un gioco, magari una penna, magari un quaderno, magari qualcosa, non lo so. O magari non vi hanno restituito qualcosa che avevate prestato. Sicuramente ricorderete la sensazione brutta che si ha di questo. Vi sentite come se qualcosa vi è stato tolto, giustamente. E allora proprio Dio ci insegna a non fare questo. Non togliere niente a nessuno proprio perché è brutto anche quando ce le tolgono a noi. Dio ci ricorda l'importanza del rispetto delle cose di ognuno. Dio ci ricorda con questo comandamento che non dobbiamo avere delle calamite apposta delle mani. Attenzione, perché questo è molto importante. Anche perché più volte nei Vangeli Gesù ci racconta di come tutto ciò che abbiamo è sì per il nostro utilizzo, sì per il nostro benessere, ma purtroppo è tutto vasseggero. E allora non dobbiamo attaccarci troppo soprattutto alle cose degli altri, anzi a quelle proprio per niente. E vediamo ora invece l'ottavo comandamento. L'ottavo comandamento è per certi versi molto simili al settimo. Non vi sembrerà, ma adesso vediamo insieme. L'ottavo comandamento è non dire falsa testimonianza. Questa parola così difficile che significa non dire falsa testimonianza. Questo comandamento nasce dai tribunali dove si chiamavano le persone a testimoniare, a dire che cosa è successo, la loro testimonianza. E questo comandamento invitava a dire la verità, a non dire il falso. E questo è molto importante perché Dio ci sta chiedendo in questo comandamento di mettere come valore principale e più importante di tutti nella nostra vita proprio la verità. Ma perché è molto simile al settimo? Perché in fondo chi dice le bugie ruba la fiducia degli altri e quindi in qualche modo è molto simile al settimo comandamento. Così come non dobbiamo rubare le cose, non dobbiamo rubare la fiducia degli altri perché noi siamo degni di fiducia, ma se diciamo bugie piano piano la perdiamo quella fiducia. E allora dobbiamo imparare ad amare la verità sopra ogni cosa. La verità spesso non è facile da dire, da raccontare, da ascoltare soprattutto. Ma vedete, la verità è l'unico valore, è uno dei valori principali della nostra vita, Dio ci insegna. E allora mettiamo al primo posto proprio questa, la verità sempre, anche quando fa male, anche quando scotta, ma la verità è ciò che poi ci porta al benessere. E allora con quest'ultimo comandamento vi saluto, vi do appuntamento per la settimana prossima, per gli ultimi due comandamenti, un abbraccio enorme da me e buona serata a tutti. Ciao!